Ciao Flavio, sono Riccardo. Ti volevo fare una domanda. La parola Spurs è venuta fuori molto spesso stasera. Qualcuno, più maliziosi, forse sa che le tutele croniche magari le giudica pro Spurs, questo da amante del gioco e da giornalista ti ferisce o ti lascia del tutto indifferente. Poi la seconda domanda, di natura diversa. Dopo mi fai la seconda. Secondo te gli articoli del Los Angeles Times ferivano d'Antoni o meno? Assolutamente no. Secondo te no? Da pazzi, da pazzi. Quindi i bastian contrari permalosi, d'Antoni permaloso così così, io permaloso purtroppo, i bastian contrari permalosi soffrono all'infinito da questo punto di vista. Il punto è che se sono veramente dei grandi bastian contrari cercano di far prevalere la parte bastian contrari, ovvero sia, si fanno un esame, in questo caso si chiedono che cos'è una telecronaca pro Spurs rispetto a una anti Spurs o non Spurs, giungono alla conclusione, probabilmente sbagliata, che la telecronaca non Spurs è il bollettino dell'agenzia ANSA, o il GR1 del 1950, ovvero sia ricezione del franco belga in maglia numero 9, che cede la sfera al numero 21, nativo di Saint Croix, che insacca con buon lo stile. Io questa non la so fare. a me il numero 21, sfiga, sfiga. No, perché c'è qualche ignorante, insomma, no, dico c'è qualche ignorante in giro che pensa che... No, no, non è gente ignorante, non è gente ignorante, è gente però che ha un, di solito, credo io, ricostruisco io, ha un pregiudizio e quindi costruisce le prove del pregiudizio, leggendo in maniera inequivocabile, lui o quelli che raccontano la gara 6 del 2002 in quella maniera hanno un pregiudizio, a meno che non abbiano degli elementi di fatto per supportarlo. È un elemento di fatto che a me piacciono molte cose, ammiro molte cose dell'organizzazione degli Spurs, è un elemento di fatto che alcune persone, mica tutti, alcune le conosco, alcune le conosco molto bene, ad alcune sono particolarmente affezionato. Ripeto, la mia affezione non cambia a seconda che vincano o perdano, che facciano canestro o non facciano canestro. Io non lo so se di una persona a cui sono affezionato o di Pini che è venuto a vedere la presentazione domani mattina e commenterò il canestro di Pini a 64 decibel invece dei 63 che gli avrei riservato se non fosse venuto. Onestamente non mi sembra neanche il problema più importante. Ripeto, se dicessi, gli Spurs hanno inventato la palacanestro, Popovic è la figura che deve sostituire il figliolo o lo spirito santo, vabbè, allora è una cosa. Ma se devo raccontare una partita di palacanestro, cerco di raccontare quello che vedo. E in più mi tengo il vantaggio di aver avuto la possibilità, anche grazie a questi rapporti, non di penetrare, che è del tutto impenetrabile, ma almeno di intuire qualcosa dietro le cortine di questa organizzazione che due o tre cose nello sport degli ultimi vent'anni le ha fatte rispetto al rischio di usare un decibel in più. Poi probabilmente perché sono bastian contrario, tifoso o non lo so che cosa. Poi la seconda domanda è che cosa consiglieresti a Gigi Datom in questo momento? Allora, intanto consiglierei a Gigi Datome, mi risulta che lo stia facendo da quello che mi raccontano e anche da quello che ha detto Van Gandhi che non era tenuto a dirlo. La prima cosa che consiglierei è tutte le volte che ha l'occasione di fare qualche cosa su un campo di farlo al massimo delle sue possibilità. Non posso consigliargli di farla col sorriso e allegria, perché mi rendo conto che non ci sia sorriso e allegria, però farla in una certa maniera è fondamentale, perché un mondo così chiuso e che vive così tanto dietro queste cortine come quello NBA, ha un modo di far circolare le informazioni molto particolari. E se tu tiri indietro il sederino, lo sanno tutti dopo un secondo. Mentre se tu non lo tiri indietro nella situazione in cui è Gigi in questo momento, quella è comunque una nota di merito che ti rimane e ti vale per sempre. Quindi la prima immediata misura è cercare, andando contro quella che è magari il suo umore, molto comprensibile, il tuo istinto ancora più comprensibile, di essere molto professionale, molto attento a questo. Dopodiché la seconda cosa è capire bene i complessi meccanismi dell'NBA. Una Lega in cui la peggior squadra da veder giocare della Lega fa una cosa, esclude un giocatore e non in diretto rapporto con questo, ma quello è la scintilla che la fa diventare in queste due settimane una squadra diversa di 180 gradi. È una delle tante situazioni che è così ricostruita male, perché in realtà non è così, ma è una delle tante situazioni che ti spiega quanto sia particolare questa Lega. Allora, pensare di dire, ma io mi alleno bene perché non mi fa giocare l'allenatore non è sufficiente. Oppure, ma visto che non mi vogliono, perché non mi cedono? Non è sufficiente. Non è quello che fa da Tome, ma è per spiegare il senso della cosa. Dire, ma che cosa gli costa darmi una chance o cedermi o aiutarmi. Non funziona così nell'NBA. Devi star lì, devi star lì, star lì, star lì, se vuoi veramente l'NBA. Questo è sicuramente un merito enorme di Bellinelli. Un merito enorme. Devi star lì, star lì, star lì, e se stai lì, stai lì, poi è possibile. Non è certo, ma è possibile che passi la barca. Se non stai lì, non passa di sicuro. Quindi l'altra cosa che deve fare lui è decidere. Se vuole star lì, a rischio di qualsiasi cosa, oppure se invece vuole dire, bene, io ho visto, è andata male, speravo meglio, adesso per la mia carriera preferisco stare in Europa, stare in Italia, smettere di giocare, invento, ovviamente, non smette di giocare, ma prendere una decisione, gli auguro di prendere una decisione basata sulla miglior comprensione possibile di un meccanismo così particolare, che interpretato con i nostri normali metri di giudizio, non ti torna tanto bene. Devi usare i loro, altrimenti non lo capisci.